L'obiettivo è lo stesso per governo, presidenti di regione e sindaci, evitare il rallentamento dell'economia e le chiusure in vista di dicembre, con le festività natalizie che spingono gli italiani a follare i negozi e a fare una vita sociale intensa, soprattutto in famiglia. E le nuove regole che saranno decise in questo inizio settimana e subito formalizzate dal Consiglio dei Ministri consisteranno principalmente nel dare una stretta, ancora non si sa quanto forte, alla vita sociale di chi non è vaccinato. L'ipotesi al vaglio, anche caldeggiata dalle regioni, è di rilasciare il Green Pass solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid da meno di sei mesi, decisione che comporterebbe il divieto di ingresso per i cittadini non immunizzati nei bar e nei ristoranti al chiuso, ma anche al cinema e a teatro, al museo, nelle palestre e piscine. Il tampone a questo punto servirebbe solo per recarsi al lavoro, con una probabile novità, la riduzione della validità da 72 a 48 ore per il tampone molecolare e da 48 a 24 per l'antigenico, cioè quello che si fa in farmacia. Quasi certa la riduzione della validità del Green Pass da 12 a 9 mesi. Inoltre il governo sta cercando di ottenere l'autorizzazione dall'AIFA a ridurre da sei a cinque mesi l'intervallo tra la seconda e la terza dose. Alla scadenza del periodo stabilito, se non si effettua la terza dose, il Green Pass decadrà. Per il personale sanitario e delle residenze per anziani scatterà invece l'obbligo per la terza dose, pena richiamo. E inoltre al vaglio la stessa misura per il personale scolastico, la pubblica amministrazione e le forze dell'ordine. Inoltre lo stato di emergenza sarà prorogato almeno fino al 31 gennaio. Intanto parte mercoledì 24 novembre in Sardegna la campagna per la terza dose agli over 40. Previsto venerdì dalle 15 alle 18 a Cagliari un open day all'ospedale Brozzo, aperto per le prime e le terze dosi Pfizer, con dosi addizionali destinate ai cittadini con più di 40 anni. Grazie a tutti.